Intitolata Giovanni Verga all'orchestra dell'omonimo Istituto Comprensivo a Via Grande. Nel giorno dell'open day della scuola, esibizione della neonata orchestra verga per la quale la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Via Grande, Patrizia Nicolini, esprime grande soddisfazione. Tra le buone prassi dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Via Grande certamente quello di aprire la scuola al territorio per pubblicizzare l'offerta formativa e rendi contare sulla qualità, sull'efficacia delle scelte didattiche e organizzative. Quest'anno contestualmente all'open day è stato scelto di ufficializzare la nascita del coro d'Istituto che è stato intitolato per volontà degli stessi ragazzi a Giovanni Verga che è lo scrittore che dà il nome al nostro istituto e la cui morte ricorre appunto il 27 di gennaio di questo mese quindi è stata una scelta non certo casuale quello di oggi di far nascere il coro d'Istituto. Le famiglie che sono venute oggi a presenziare queste iniziative sono state numerose per questo le ringrazio è una testimonianza forte del fatto che le famiglie apprezzano la qualità del servizio erogato.